E' crollato tutto in un attimo, all'inizio non riuscivamo a capire cosa fosse successo. Molti di noi sono ancora sotto shock e difficilmente potremo mai dimenticare quello che è avvenuto. Sono queste le parole di alcuni studenti del liceo Saffo di Roseto, oggi tornati a scuola, e che ieri a Roma hanno vissuto in prima persona il crollo di una scalinata di legno al Globe Theatre, il teatro voluto da Gigi Proietti all'interno di Villa Borghese. Un cedimento avvenuto intorno alle 13, proprio mentre i ragazzi stavano uscendo dal teatro dopo aver assistito ad uno spettacolo. I ragazzi si sono avviati verso l'uscita. La mia classe ci siamo trattenuti un attimo, mentre pure noi ci stavamo avviando, i ragazzi hanno incominciato a strellare, è crollata la scala e è crollata la scala. Quindi abbiamo fatto rientro a tutti i ragazzi nel teatro, io mi sono affacciata, in pratica sono crollate le scale sotto i ragazzi, i ragazzi sono volati giù. Per fortuna le travi non le hanno colpiti, cioè loro sono caduti sulle travi. Questa è la cosa che forse ha evitato meno complicazioni e meno cose gravi per i ragazzi. 12 di loro, alcuni di quarta e quinta, sono stati coinvolti direttamente nel crollo, cadendo da un'altezza di diversi metri e rimanendo feriti alcuni in maniera lieve, mentre due studentessi in maniera più grave. Ieri sera sono stati dimessi quasi tutti, quindi erano contusioni oppure ferite dovute alla caduta, tranne due ragazze, una che è stata operata stanotte alla colonna vertebrale, sono stati messi sei chiodi e speriamo tutto bene, ma stamattina ancora sta in rianimazione. E un'altra ragazza invece non sappiamo se sta ancora in ospedale, perché pure lei ha riportato qualche piccola lesione interna, quindi stanno ancora facendo degli accertamenti. Io ero ancora dentro del teatro e avevo sentito un boato fortissimo e poi sono andato a controllare che cosa era successo, ho visto alcuni miei amici del quinto che stavano per terra, cioè erano cascati. E niente, poi siamo scesi dalle scale di emergenza, abbiamo fatto un resoconto anche con gli amici e gli altri, e poi sono arrivate le ambulanze, la polizia, cioè per primi sono arrivati i vigili del fuoco, comunque per vedere la situazione, le travi di legno, e poi niente, è arrivata la polizia, l'ambulanza subito, con le sirene. Io sono ancora un po' scioccato, cioè si può notare che ho ancora l'emozione di ieri. Un evento che poteva avere ripercussioni ancora più gravi e che ha creato momenti di grande panico tra i presenti. Molti sono caduti, non si sono fatti male, però tremavano, tremavano, piangevano, ci sono stati momenti di panico, anche perché quando hanno incominciato tutti ad agitarsi così, noi non sapevamo poi chi realmente aveva riportato dei danni o no, perché hanno avuto anche delle crisi emotive, forti, sì sì, perché sono volati in molti, non è che sono volati in dieci. Alcuni, per fortuna, forse il volo è stato basso, quindi non hanno riportato niente di grave. La cosa da specificare è che l'evento è interessato solo i ragazzi rosetani. Sì, perché noi stavamo al terzo anello, quindi l'anello più in alto, mentre gli altri, non so se erano scuole di Roma, stavano al secondo e al primo piano. Grazie.